Sono Clinton Whitey e sono contento di aver partecipato a questa mostra insieme allo spazio EVE. Il concetto della mostra è basato su un sorgofobo etrusco. Ho visto questo sorgofobo e ho notato che i sposi che stavano sepolti dentro li sono abbracciando e questo mi ha colpito molto. E ho deciso di creare questa mostra basata su questo concetto di sposi che apprezzano il loro amore abbastanza per farlo continuare dopo la morte. Quindi ho creato queste nove immagini su carta e poi ho creato queste opere un po' più grandi su organza. Grazie. 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 Grazie.